Cari amici, oggi celebriamo la festa di Santa Maria Maddalena. Qualche anno fa il Papa ha voluto elevare questa memoria liturgica appunto a festa. E allora ci mettiamo in ascolto del Vangelo che ci narra l'incontro stupendo tra Maria e Gesù, il Risorto. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recuò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? Rispose loro, hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse a Gesù, donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custodio del giardino, gli disse, Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo. Gesù le disse, Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico, Rabbuni, che significa maestro. Gesù le disse, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli, ho visto il Signore e ciò chi le aveva detto. La tradizione chiama Maria Maddalena l'Apostola degli Apostoli, Apostola Apostolorum. Secondo l'Evangelista Giovanni, Maria è la prima testimone della Ressurrezione del Signore, è la prima a vedere il sepolcro vuoto, è la prima ad ascoltare la verità della sua Ressurrezione e dall'altra parte è la prima a darne testimonianza davanti agli Apostoli. Ecco perché è chiamata Apostolorum Apostola, come ci ricorda Sant'Ommaso d'Aquino, perché lei va ad annunciare agli Apostoli come Apostola chi ha incontrato il Signore che amava. È un Vangelo ricchissimo, davvero il Signore a ognuno di voi che sta ascoltando, che sta pregando questa parola, suggerirà qualche versetto infuocato. Vorrei fermarmi proprio nel cuore di questo Vangelo. Donna, perché piangi? Chi cerchi? Quante volte viene sottolineato e descritto il pianto di Maria? Maria può essere ciascuno di noi, posso essere io, puoi essere tu, di fronte e a fianco, davanti ai nostri sepolcri, a quei luoghi di morte che ci portiamo dentro, qui dentro, quei luoghi di morte che sembrano aver vinto nella nostra vita e noi pensiamo che tutto sia finito e noi pensiamo che questa sia la verità profonda e non ci resta che piandere, percepiamo un'assenza. Prova oggi a dare un nome a questo sepolcro dove tu vorresti essere lì, che non accetti ma nello stesso tempo accogli e ti senti impotente, impotente di fronte a questi sepolcri. Ma Gesù chiede, perché piangi? Chi cerchi? E in questo dialogo con il Signore, lei non sapeva che era Gesù, ad un certo punto viene chiamata per nome Maria e di fronte alla voce del Maestro lei lo riconosce. Rabbunì, Maestro, Maestro mio. e con grande coraggio prende sul siero l'invito del Signore ad annunciarlo ai fratelli. Ho visto il Signore. Ecco, Maria riscopre il Signore vivo e la sua vita cambia radicalmente e quel luogo di morte diventa improvvisamente un luogo di vita, perché proprio lì il Signore l'aspettava per farsi conoscere. Allora oggi lasciamo entrare ancora una volta il Signore nei nostri sepolcri. Ed è bello pensare che Maria Maddalena rappresenti anche la Chiesa. La Chiesa che da una parte viva l'assenza del suo sposo, una Chiesa ferita, una Chiesa che piange, ma una Chiesa che è se stessa quando ha il coraggio di andare e di annunciare ai discepoli, a chi ancora non lo conosce, ho visto il Signore. È una Chiesa giovane, è una Chiesa che ha l'entusiasmo, che è missionaria, è il Signore del nostro Papa. Allora ti chiediamo, Signore Gesù, donaci il tuo Santo Spirito, dona Chiesa, dona energia nuova, dona vita a ognuno di noi.